Cosa si può nascondere nella mente di una IA, ovvero di una intelligenza artificiale? Una delle cose più affascinanti da chiedersi è del come un'intelligenza artificiale possa ragionare, possa pensare e del come possa entrare in relazione non solo con gli altri, ma anche e soprattutto con se stessa. Cosa succederebbe, cosa potrebbe succedere se acquisisse consapevolezza di se stessa? In questo video vi ho portato l'interessantissima mente di Al 9000, direttamente dal film 2001 di Sea nello spazio di Kubrick. Possiamo considerare Al a tutti gli effetti, date le sue funzioni e caratteristiche, una vera e propria intelligenza artificiale. Sarà un viaggio emozionante, quindi iscrivetevi al canale, condividete il video e preparatevi per un viaggio nella mente di uno dei personaggi più entusiasmanti e intriganti siano mai stati creati. Per prima cosa identifichiamo Al 9000. Al è un super computer, è responsabile delle operazioni di bordo dell'astronave Discovery, dall'amministrazione del sistema alla comunicazione con l'equipaggio. All'apparenza, estremamente empatico, gentile e sicuro di sé, o meglio, è stato programmato per essere in questo modo. L'errore compiuto da Al, che identifica per sbaglio un pezzo dell'astronave come prossimo all'avaria, ci indica il passaggio del robot all'umanità, una umanità che fa errori al contrario dei robot, ma anche una umanità dotata di consapevolezza di sé stessa. Dopo l'errore di Al e dopo essersi rinchiusi in una capsula per non essere uditi dal robot, i due astronauti pianificano di disattivare Al, che tuttavia, grazie alla sua capacità di leggere il labiale, capisce perfettamente le loro intenzioni. Qui inizia il desiderio del robot di vivere, unito al suo terrore di morire, di essere scollegato e di sperimentare la morte. Qui vediamo un altro talmente diverso, che seppure mantiene la stessa voce calma e pacata, durante tutto il film, diventa molto più oscuro e allo stesso tempo anche molto più violento. Possiamo vedere anche di come vi sia una chiara prevaricazione della parte razionale, inconscia di Al e di tutti i suoi istinti sulla parte razionale. Ucciso uno dei due astronauti, Al uccide anche gli altri tre che si trovavano a bordo della navicella e che erano in uno stato criogenico. Sopravviverà solamente un astronauta, che giunto faticosamente al centro di controllo del robot, disattiverà le sue funzioni. Accompagnato dalla voce di Al, che professerà apertamente, ed in continuazione, la sua paura verso la morte. Ciò ci indica due cose. La prima è il trionfo dell'uomo sulla macchina, seppur a carissimo prezzo. Vediamo infatti la perdita della vita di quasi tutto l'equipaggio, d'eccezione di un uomo. Quell'uomo che in un certo senso potrebbe rappresentare l'umanità stessa. La seconda cosa che ci indica è la comune paura per la morte, che potrebbe affliggere non solo l'uomo, ma forse anche l'intelligenza artificiale da lui stesso creata. Ringrazio le persone che hanno visionato il video, invito chi non l'avesse ancora fatto ad iscriversi al canale e a condividere il video. Lasciate un vostro commento, sono molto piacevoli da leggere, danno molti spunti costruttivi e ci aiutano ad approfondire. Noi ci vediamo nel prossimo video, nei prossimi shorts. Un caro saluto dalla mente tra le pagine. Ciao e alla prossima. Ciao.